bella ragazzi e buon anno buon 2023 a tutti qui è pietro spatano e oggi vi racconto del mio precedente che ho fatto nel 2022 ok sì terza dose fatta sì sì poi dopo gennaio ho rivisto per bene Sanremo la vittoria di Mahmoud e Blanco poi a fine marzo prima sono andato allo stadio che all'Allianz Stadium che ho visto per la prima volta una partita dal vivo è stato Juventus Salernitana vinta dalla Juventus per 2 a 0 con l'RTD di Bale Vlaovic poi dopo questa splendida esperienza da quando sono tornato qua in Sicilia a fine marzo sono stato positivo al coronavirus per noi giovani è un'influenza normale se devo essere sincero l'importante che ho superato questa battaglia all'11 di aprile è stato davvero pazzesco certo a maggio ho compiuto 22 anni il 4 poi dopo maggio giugno una bella estate ho fatto incredibile poi a settembre ho conosciuto una splendida persona una mia coetanea come Federica Carta a Luca Sicula complimentoni ancora a Federica Carta che se mi stai visualizzando ti auguro buon anno il 10 di giugno so bene che il suo compleanno di Federica Carta gli faccio gli auguri poi a ottobre non so guarda insomma guarda un mese così così a novembre certo a inizio novembre sempre il compleanno della Juve se devo essere sincero poi a dicembre è stato pazzesco sempre buon Natale buon anno se vedete nei miei video ho fatto anche dei concerti se lo se sapete per bene scusate per il gatto scusate tanto a settembre prima che iniziasse l'autunno ho cantato a palazzo Adriano duemila duemila volte se non vado errato e poi alla vigilia di capodanno che siamo qua nel presente ero in un ristorante ho cantato tre canzoni spero che sia stato ben tutto chiaro spero che il mio video vi è piaciuto vi auguro tanta pace e serenità e buon inizio 2023 a tutti ciao belli e iscrivetevi al canale